Ueeh, non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Ueeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video! Io sono XIODER e ragazzi, guardate che storia! Sono passati pochi minuti e grazie alla chat, mentre eravamo in live, mi è stato fatto notare che il nucleo, la palla di sponde del saccheggio, è molto più grande di ieri. Sì ragazzi, perché con l'evento del robot versus il mostro si è generata come unica modifica importante alla mappa un nucleo di energia a sponde del saccheggio. Molti dicono che sia di nuovo il ritorno di Kevin. Io ragazzi, sinceramente non lo so, ma davvero sembrerebbe che abbia tre fasi. Ieri non era molto grande, oggi lo è di più. Secondo me fra un paio di giorni sapremo qualche informazione extra. Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video, mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live poi domani mattina alle 8. Ciao! Ciao!